tra un po' mo' si può uccidere il trodonte mo' mi prendo le cose, ce le ho le steenberry eeeh 9 ma dovrebbero bastare non possiamo morir così da scemi non è da scemi, è che la torpiditi è tipo game breaking per quanto è forte cioè non è una meccanica completamente è ok come se non bastassero il faraptor di là della riva ah fammi ce lo vedo da qui quanto è grosso ce la faccio vieni qua no 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 ne salto i po' giri madonna aspetta prendo io la carne perchè madonna che palla che sei prendo io prendo io ma che cambia ce l'abbiamo 200 di carne nel frigorifero valla a prendere e cuocila fa cornuto devi fare ogni volta no dai dai si ma non gli possiamo fare niente al coso al che cazzo fai all'alpha posso caitare posso caitare via al massimo proprio sicuro che tu non ci posso sicuro ma tu ormai sei un bel livello ma ti pare ma che livello che c'entra il livello mi fa sbloccare solo le cose hai visto le stazze che ci vogliono per distruggerlo no non l'ho visto non so che non so quanta vita ma so che è assurdo eeeh mo lo caito che devo fare non ce la fa niente se non possiamo giocare se non lo spostiamo da lì che carriano da qualche parte eh lo porto via tipo prima che mi one shotta spero di correre abbastanza in fretta da riuscire a portarlo un po' via gli tiro un pugno nel culo e me è scato signore e signori guardate è un draconte ma perchè funzionano le bola sull'alpha ma serio cioè se gli spara 400 colpi di fucile fucile laser non muore però la bola fatta di di peli di culo e e pietre intrecciate quello vabbè funziona lo stoppi a terra morto ucciso vabbè mo vado con le bola lo trappo grave però si chiude la porta tra l'altro è scomparso per finire sarà in giro eh ma uccidetelo male con cosa vorremmo che moriamo come lo schifosi gli schifosi poi in continuazione ma lo spago ci si è quasi da un trodo ma non si può temare l'alpha Mario almeno tutti mi hanno detto che non si può temare l'alpha ma se ce ne usciamo che si può temare l'alpha non so più che si è vero nella vita c'è troppa vita sto cosa di cosa e l'ho missa completamente no mi sa che sta a fare tipo l'ennesima rincorsa strana l'ho preso ma non gli ho fatto niente ci sarei ci sarei a farlo notare ah proprio quello 10 è sempre lo stesso è quello lì si non è mai morto vedi l'ho credo di averlo proprio preso non ha fatto hit marker ma non gli ho fatto niente sono sono respawnato ma ho arrivato lì lo cerco di allondonare un altro po' ok io ti vedo sono sopra l'avanzata anzi riprendo le bolle ci riprovo magari l'ho missato non so però io direi un pugno eh aspetta dove stiamo allora porco se ne va però eh si sposta nell'esatto istante in cui le tiro oh madonna oh madonna che palle come le zanzare con le otteri berda culo ci mangiavano tanto sei nudo sti cazzo no però nel senso volevo tirare una cosa ah qua è talmente veloce che mi supera io mi schianto verso di lui e mi fermo poi mi si gira in un secondo e mi mi si rinoie si ma boh siete sicuri che si può temare ma io siete proprio sicuri cioè io non è che non ci voglio credere per me a me sarebbe fichissimo temare un un dinosauro alfa però mi sembra un po' una stronzata cioè mi da l'idea che non è vero dove sto però io dove cazzo mi ha spawnato tu lo vedi il verde il non più non più ok cioè non sono sicuro secondo me secondo me non si può o se si può tipo o se si può tipo appena eh lo so appena tipo vai vai lì tipo lo temi tipo ogni tanto ti si ti gira e ti mastica un attimo vengono le crisi pilettiche comunque la tartaruga è inutile da prendere se no ci facciamo con la tartaruga niente la tartaruga è utile da prenderla tipo a livello alto nel senso se non c'è niente da fare che tu ti fai un tipo un tank gli alzi sempre la vita perché c'è un sacco di c'è un sacco di hp la tartaruga ma a parte quello mi sembra molto superfluo prendere una tartaruga anche perché non ha non è che prende risorse di qualche tipo non fa niente magari morderà i pesci ma wow questo è un livello 85 è kaitala la tartaruga mettiti lì gli dai una botta e indietreggi vado ancora abbastanza lento non posso superare l'alpha raptor sto 130 in moment speed e non basta 130 è poco alla fine no il raptor normale lo supero non mi prende e il problema è l'alpha ma perché parte è la musica non so io ho sciotto la tartaruga c'è un cazzo da fare sei in acqua però stiamo in merda titano mirma io ho vedi madonna io che premo esche non si può guardare non si può guardare non so più dove è l'alpha 85 85 si può fare no no 85 ci mettiamo le ore a temare 85 ok devo trovare l'alpha devo trovare l'alpha perché così lo sposto ancora di più io non lo vedo più dove siamo eh lo so non vorrei però tipo si ripresenti appena appena stiamo temendo qualcosa alpha di fronte a casa alpha di fronte a casa dove non ci ho fatto caso come di fronte a casa forse lo intende dire portatelo di fronte a casa non lo so I'm starving ah ma dove stai tu ah 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 sto prendendo gli schiaffi da una carta mori ci mi raccomando se mori non ci gioco più con te stai immagino eh non mi meraviglierebbe non ci gioco più praticamente e poi te ne sto prendendo tutte cose metà vita eh no ma perché non ce l'avevo guardato solo davanti a casa quindi si anzi quasi conviene averlo davanti a casa perché perché nel frattempo che morde le spranghe qua però ancora ma ci hanno la fissa sti titano mirmo però eh mi uccidi ste mosche di merda che sono nudo dietro di me basta che indietreggi e spari verso di loro indietreggi fisso e spari dai le botte verso di loro oh ok prendile prendile con l'accetta che mi sa che droppano la chitina forse non sono sicuro non è dato niente zero questo comunque la bolla non funziona è ok vediamo se chitina chitina la carne a cuoce l'hai messa? no fantastico non è fatto niente mi è stato ucciso è una tartaruga che era completamente superfluo farlo allora mettiamo la touch tac guarda quante cazzo di skin guarda perché sto morendo tra l'altro oh 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 è se io che premo oh 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 ok perché non posso riparare i pantaloni che ci hanno? forse qua dove riparare abbiamo concluso niente vorrei far notare questa cosa abbiamo fatto niente finora vanno di là le fibre le devi devi mettere le fibre dentro lo smiley si 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 ho capito meno male la balestra allora riprendiamoci le cose tac 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 dove cazzo sta il set ma scusa la torpididi può essere aumentata meno male che almeno ho stato a ride che devi fare che devi fare Fabio non ho capito non si può aumentare non la puoi toccare ti devi fare non si può non si può non mi continui a fare domanda ho detto sette volte che non si può in vari modi ma scusa magari a livello 900 no Fabio non si può ma scusa ma se tu invece poi lo pensi veramente no ecco l'aiuto dell'amicizia no non si può aumentare ma scusa ma se faccio una lettera a Babbo Natale non si può basta che cos'è un terror bird no quello la lascio in mezzo la lascio in mezzo quello ruba le cose tra l'altro è un kunt è quello che va in acqua ruba i pesci e scappa tipo mi servivano delle cose che non ho preso che non ho preso la spia l'ho preso che si trova qui accetto il piccone ma me li metto accetto il piccone anche se è buona su due ecco che mi ero dimenticato di mangiare attenzione che ci muori se ti distrai troppo al culo dove metto le chiappe tipo carte di credito che ci fai con la kitina ti impari il vestito di kitina e te lo fai che è quello che stai indossando tra l'altro che era quello mio che tu hai stilato come un matto o come dici come dici tu stolato me l'ha stolato chi c'è qua fuori niente parasau e ma non ci sta nessuno ma che notte non ci sta nessuno domani mattina appena appena parte l'alba sette carnotauri 18 t-rex 18 t-rex follie ma luce verde le luci che servono mosole gialle e basta il resto fa schifo ma sul cielo di merda non vorrei che se non la one shot poi che fa rompe il cazzo l'idea no no aspetta 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 tu mi stai aspetta perché lo vuoi fare tu no no eh no no con cosa poi che ne so ecco con l'arco non usare tranquilla se usi i tribunani mi agito ne ho quattro e basta eh non le sprecare quei dinosauri a caso no infatti no eh speriamo di no Sally madonna già quelli già uno c'è stato rinoiato come dei pezzenti che ci avrebbe umiliato trusso boh aspetta a proposito così ti stai sito una volta per tutte fammi vedere quindi i lingotti ci sono 39 eh andrà a salterne l'uccello di merda e lascialo lì se non rompe il cazzo farlo fa quanto ci vuole simple bullet ci vuole una frega di lingotti sono in passiva eh legno ragazzo sta legno non c'è più il legno incredibile finito tutto il legno del mondo lo so non lo hai dove andrà a prendere 5 prima che fa completamente notte eh non l'ho fatto in tempo ok come l'ho detto torniamo a casa stiamo pensando eh no più che altro mo faccio così accendimo una cazzo di luce ok eh mo mi spoglio completamente sto fuori sul tetto e vedo se spavano dei cosi colorati da qualche parte e ci vado no perché magari lo droppi lo prendi tu e poi ci muori dove cazzo finisce dopo che c'ho in mano le bistecche e la bola vabbè la bola può pure rimanere guarda la torretiva è detta vedo se spavano dei cosi gialli se ci